Rieccoci ragazzi, bentornati su The Room 3. Allora ragazzuoli, dobbiamo vedere un pochettino se c'è qualche altra cosa che magari abbiamo saltato o altro. Non penso, perché... Qua secondo me abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare. Ah, vedete, questa cosa l'avevo vista prima. Ok, qua ci sono tre attacchi, quindi va bene. Infatti mi sembrava che ci fosse qualcosa, ma... Volevo essere sicuro. Ok, entriamo. Quindi là davanti non c'è niente. Qua zooma, zooma solamente qua davanti, ma non mi serve niente. Lì davanti niente, qua non mi fa cliccare. Questa parte qua vi giuro che non capisco che cosa devo fare in questo. Ma più che altro perché secondo me è tutta una questione di luci questa parte qua, quindi va bene. Qua niente, qua niente, da sopra niente, qua niente. Dobbiamo per forse entrare nella stanza. È inutile. Il problema della stanza è che... Allora... Che posto è questo? Devo trovare un modo per uscire da qui. Ok. Allora... Forse c'è una... Una combinazione. Però secondo me manca proprio il fusibile, sapete ragazzi? Cioè perché boh... In effetti qua fusibili non ne vedo. E ci manca qua. Perché non possiamo... Vedete che non possiamo... Spostarli, i fusibili. Cioè nonostante ci... Uh aspettate un po', forse ho capito. No no no, aspetta così. Ok. No, non è così. Fermi, fermi, fermi. Ok, vai così. Ok. No. Allora, in effetti è meno, più o meno. Allora, dobbiamo riuscire a dargli energia. Vedete? Ok, qua si accende. Però se si accende qua, qua si spegne. Quindi allora, aspettate un attimo. Vediamo un po'. Se facciamo così. E facciamo così non funziona niente. E neanche così, quindi. Ma... Mmm... Sei sicuri che si può fare così? Fermi un attimo. Perché c'è qualcosa che non mi quadra, allora. Se si può fare così. Ok. Ok. Hai fatto di nuovo tutto da solo, però sono contento che hai fatto tutto da solo perché era complicata la cosa. Attenzione, ragazzi. Abbiamo acceso... Boh. Questa torre? Fico. Vediamo qua. Ok. Ok. Che potta di chiappe. Cioè, quindi se io avessi cambiato le cose sarebbe andato diversamente. Allora, aspettate. Qua immagino che devo fare qualcosa per... Ah, deve essere lunga. Ho capito, esatto. Sì, 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 devo farle combaciare. Vai, larghe devono essere. Quasi. Più o meno. Aspettate. Ok. Sì. Perfetto. Eh, sì, perfetto un cazzo. Ce l'ho fatta. Ok. Quindi una luce colpisce da sopra. Ed esplode tutto. Porco due. Cioè, appare una porta, così da nulla. Va bene. Le lancette non le abbiamo ancora fatte, però, proprio bene. Ok. Cioè, quindi quella stanza da lancette, eccetera, non le abbiamo fatte. Ok, c'è qualcosa che non quadra, ma siamo comunque in caricamento, ragazzi. E sto gioco qua al momento è punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Ok. Sì, ma non posso tornare indietro. Attenzione. Oh, sì. Non lo so. Andiamo intanto qua. Che caspita. Aspettate. Perché forse devo far così? Esatto. Ok. Un'ingranaggio di legno. Perfetto. Qua non c'è problema. E ok. Poi, vediamoci qua intorno, vediamo. Qua niente, qua niente, e qua niente. Ok. Qua ci sono due fori. Probabilmente ci vorrà qualche oggetto. Laggiù al centro, altri. Sembra che manchi qualcosa. Manca secondo me. Aspetta, forse proprio questo manca. Eh sì. Attenzione. Ah, forse devo girarlo. Sì. Così ne abbiamo apparti tutti, mi hanno tirato su le torri. Un'altra casa delle bambole. Lol. Oddio. Ragazzi, non sembra tipo la scena quella del trono di spade. Adesso parte. Tan 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 tan. Nananana. Nananana. No, ci stava, ci stava ragazzi. Allora qua. Ok, qua mi sa che ci... Penso che ruoterebbe se avessi qualcosa insieme alla cavità. Ok. Quindi non ce l'abbiamo qua. Qua c'è una porta. Ma non possiamo fare niente, direi. Sì. Dove essere accennata la sezione di questo modello da posizionarsi sopra. Ok. Tan 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 tan. Allora, lì ok, a posto. Qua c'è un cratere. Che anche qua dobbiamo metterci qualcosa. Vediamo sta qua. Vediamo, è l'unica. Ok. Attenzione, qua mi sa che ci va qualcosa. Penso che manchi qualcosa. Eh, infatti. Qua altre cose non le vedi. Sto cliccando un po' ovunque per vedere un po' se mi da qualche oggetto o altro. Ma non vedo niente in realtà che ci possa dare qua. Ok. Questo qua mi sembrava tipo degli oggetti da tiraggiù, ma no. Qua però c'è una... Esatto. Questa porta qualcosa di strano. Ok. Perfetto, la casa nella casa mi piace sempre. È un insieme di case. Allora. Va bene. Ah, ok. Dovevo aprirla. Perfetto. Io ora ecco la carta. Ah, devo metterli... Ok. Ho capito. Così. Così. Perfetto. Vabbè, questa era easy però, dai. Cosa ho fatto? Ah. Un magnete. Attenzione. Aspettavo di dover spostare il classico oggettino, invece no. Un magnete di che forma però? Ok, così. Con una X. Cioè, con un più, diciamo. Allora, questo dov'è che l'abbiamo già visto? Questo tipo di magnete qua con un più. Allora, di qua no, sì. Forse... Aspetta qua. In effetti potrebbe anche andarci, ma non ci va. Ok. No. Allora, allora. Qua l'abbiamo già visto prima, che abbiamo ruotato, eccetera. E ci dà ancora accesso dentro. Quindi sicuramente ci sarà ancora qualcosa da fare dentro. Vediamo qua. Qua è una cosa che dobbiamo decifrare. Il nome di questa torre rivelerà la via. Ok. Perfetto. Qua non c'è nient'altro. No, infatti. Libri niente. Ci sono solo libri qua sopra, va bene. Oh, laggiù c'è qualcosa da leggere. Che posto è questo? Pyre. Non è stata accesa per molti anni. Le navi non hanno bisogno di una luce. Che le tenga lontane da questo luogo. Per trovare il cammino tuttavia i viaggiatori come noi occorrono cose del genere. Una luce nel buio. La strada da percorrere oscura. Di un'oscurità visibile anche un cieco. Il maestro. Pyre, quindi, si chiama. Pyre. Ok. Esci proprio così, vai. Allora. Come caspita? Facciamo prenderli le lettere. Ah, ok. Ho capito, forse. Pyre. No, dobbiamo metterlo in un altro senso. Ok, ho capito. Pyre. Perché fa così? La P. I. Perché F, scusate? Perché F? No. Voglio la P. E voglio la P anche qua. Ok, qua la I. Però quindi mi serve nell'altro. La I. Mi serve... Quindi com'era la I? Aspetta, era questo, mi sembra, è questo. No. Questo e questo. No, la K è questa qua. E questo. Questa è la I. Ed è F. No, allora... Questo e questo. Questo e questo. Que... N. Allora... Questo... E questo. Questo e questo. Ok. Aspetta, non volevo la Y, però. Era Pyre. Cacchio. Ah, ok. Quindi. Questo in su e questo qua. Questo in su e questo così. Ok, la I l'ha fatta. Poi, questo in giù. E questo così. No, la M. Quindi dovrebbe essere questo. Sì, vabbè, ma sono anch'io rincoglionito, però, ragazzi. Un po' tanto. Allora, questo e questo. Ok. Qua c'è bisogno della E, quindi è questo. No. Questo. E questo. Ok. Cosa era qua? Che ho sentito. Ma dobbiamo arrivare nell'ultimo, quindi ho così e così. No. Così e così. E la P è la prima, quindi ha... Così e così. Pyre. Eccola qua. Ci abbiamo fatto a Mizzica. Un arco di legno intagliato. Perfetto. Perfetto. Allora, qua ce l'abbiamo fatta. Qua. Allora, al momento questo qua, secondo me, non ci serve in questo punto qua. Dobbiamo mettere in altri punti. Tipo, 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 tipo. Vediamo un po'. Allora, qua intorno niente. Tipo qua. Ecco, tipo qua la metterai. Perfetto. Altro affare da fare, ok. Vai. Vediamo qualche cosa troviamo. Questo pezzo fa molto stone, già io ve lo dico. Due. E due. E due. Ah, forse dobbiamo spostare questi. Eh, ok. Secondo me. Ok. Vediamo questo. Perfetto. E l'ultimo. No, eh, c'è qualcosa che non quadra. Non me l'ha fatto cliccare. Perfettissimo. Eh, ma ce ne sono ancora. Non ci ho fatto caso. Due. Ah, forse gli altri sono fuori dal meccanismo. No, non sono fuori dal meccanismo. Quindi. Vediamo. Pensavo di dover rigirare o fare qualcosa del genere, ma invece no. Ok. No. No. così forse forse non è che dobbiamo fare i disegni quindi il primo è fatto così sì, perfetto, grande van il secondo è fatto tipo così perfettissimo e il terzo ah ok, è fatto semplice quindi è fatto così il simbolo di X-Files quasi va bene, è si è aperto e dentro ci troviamo un altro pezzo ancora che però qua vedo che posso accedervi tranquillamente più una cavità a forma di croce bisogna mettervi qualcosa questo secondo me ok no, non ho capito forse uno da mettere qua ma ce n'è ancora un altro da fare intanto guardiamo qua qua c'è una strada ci fa aprire? sì un modello di un quadrante d'orologio attenzione il quadrante d'orologio con un puntino al centro ok qua non ci va vero? aspetta no sembrava tipo c'è un dos credo che questa porta serva a una chiave speciale ok qua qua è una specie di oddio aspettate quindi immagino di dover ruotare ah ha fatto tutto da solo? non è che forse devo ruotare eh sì infatti allora aspettate sì qua però non c'ho un esempio però so che il verde va giù e quindi cos'è? perché era verde blu 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 però facendo così deve diventare tutto verde e così non funziona però cioè in base vedete sto verde che spunta? cercherò di capire dove caspita lo vuole perché facendo così tecnicamente è giusto quello che faccio però non me lo dà giusto poi il gioco perché se faccio così poi tac vedete cioè non dà un senso non ha un senso questa parte o per me lo dire sicuramente c'è un senso ma sono io che non lo vedo ok osserviamo proprio tutti tutte le cose che ci sono qua intorno qua che cosa c'è? oh cavolo questo cos'è? ah ho capito ho capito allora molto particolare sta cosa qua ok vi faccio vedere qua allora abbiamo la x e la girella quindi abbiamo la x però non c'è come che aspetta? ah la x è sopra ok x girella e se per forza deve essere così ah ok qua vediamo il simbolo deve essere ma si vede malissimo ma ora si vede bene quindi deve essere al tutto il centro e diviso così ok e non lo ha al momento allora c'è qualcosa che non quedra no infatti allora aspettate qua non ho visto però la parte sopra fammi un attimo vediamo un po' sopra non ci ho guardato più che altro non ci ho guardato più che altro non ci ho guardato più che altro ok qua ci sono altri due disegni che è un serpente e una specie di A in basso quindi allora aspettate un serpente quindi serpente e un A in basso ah ok adesso ho capito si ma scusate come facciamo a cambiare i punti cioè non puoi cambiare i punti cioè cioè ricapitolando io i punti li ho trovati va bene però dovrei averci anche un altro oggetto per poterlo fare cosa che invece non ho ok oh quale combinazione non sono tante se il primo non era vediamo col secondo così non gli piace allora aspetta togliamo il secondo mettiamo il terzo cioè cambiamo tipo di disposizione vediamo se magari cambia qualcosa non pensa però niente quindi se questa dispersione va bene facciamo così così e così va bene siamo andati a tentativi ci sta un modello di pezzo di legno va bene sì ma non ho molto da farci ok non c'è nient'altro qua quindi anche questo è a posto è sempre questo qua il problema perché come faccio allora ho sbagliato io ma andrà tutto avanti sì ho capito che bisogna mettervi qualcosa però altri oggetti non ne vedo da poter aprire c'è solo questo ma abbiamo appurato prima che ci bisogna di qualcosa di speciale che non è questo invece qua sopra questo qua non ci caga niente questo neanche comignoni tutto a posto le cose tutto a posto proviamo a cambiare a riuscire da qua un attimo ok forse qua sopra ma non penso e infatti niente qua sopra oh bene 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 eccola qua cosa ha aperto cos'è dell'acqua tipo cioè cosa sembra che in questo supporto vada qualcosa al momento non c'è niente però da metterli su quel supporto qua non posso guardarci non mi ci fa guardare è bastardino il gioco cioè non mi fa guardare sul davanti qua neanche niente qua non mi fa vedere niente ragazzi ok l'orologio l'orologio vediamo un po' qua visto che abbiamo l'ancito dell'orologio altro entrata vai va bene ah forse ho capito però devo capire un secondo come muovere i pezzi perché non mi fa muovere ah ok si come faccio a muovere gli altri pezzi però eh buona domanda no possiamo muovere solo così pensavo di dover aprirci le ali perché secondo me era da aprire ah ok tiriamo la levetta si sganciano le ali modellino di una barca ok altre cose basta ma si direi di si quindi mi è trovato il modellino di una barca una malissima barca che secondo me dovremmo mettere dove eravamo prima vediamo un po' se in effetti è così dove è caspita la barcchetta la barcchetta qua ok aspetta che ho zoomato troppo ragazzi scusate eccola qua la barcchetta vai e ho capito ma se la barcchetta va così ah devo proprio cambiarla io ok a disposizione più che altro e anche qua dobbiamo aprire va bene entriamo anche lì dentro come prima si e qua cosa troviamo perfetto cliccare sugli occhi una chiave ben trovato perfettissimo ragazzi ottimo ho questo qui a posto direi penso non penso ci sia nient'altro da vedere qua da questo qua o forse no perché questo qua non mi fa cliccare su qua vabbè proviamo andiamo a scendere via vediamo un attimo quindi abbiamo una chiave va bene abbiamo una chiave ma porte al momento ne avevano trovate ne avevano trovate dall'altra parte però al momento non ne avevano trovate qua vicino questo niente ok allora vediamo un po' porte 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 qua non mi ricordo no ok porte 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 qua qua l'ho già visto niente qua altre cose a parte questo che abbiamo scoperto direi niente cioè non c'è nient'altro qua da quello che vedo vediamo ok tipo la chiave di un faro possibile vediamo se magari vede il faro no ci ho provato qua c'è la rosa dei 20 lì c'è un altro pezzo che vogliamo non metterci allora vediamo se abbiamo fatto tutto va anzi ragazzi facciamo una cosa a forma direi che per oggi può anche essere tutto ci vediamo nel prossimo episodio sempre di The Room vi ringrazio ancora di avermi visto qua su Vanessa in tv vi porterò tutto The Room 3 quindi ci vediamo alla prossima mi raccomando mettete un mi piace un iscrivetevi e fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie ma è così e così così al momento perché rispetto a forse All Science è stato forse quello più figo da giocare questa qua bella ma corremore cioè finora è abbastanza forse un po' troppo dispersiva in questo caso qua però per il momento ci sta ci sta anche quello beh alla prossima ciao ragazzi see you ciao